La stanza provinciale 565, Pede Montana, nei pressi del distributore di carburante nel comune di Bairo. A scontrarsi una Suzuki S4 condotta da una sessantenne di Castellamonte e una Toyota con a bordo una sessantadueenne di Traversella. Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Castellamonte, i vigili del fuoco di Ivrea e i carabinieri di San Giorgio Canavese. Lievemente ferita la conducente della Suzuki, che dopo le prime cure è stata trasportata all'ospedale di Cornier, illesa l'altra donna. La dinamica è il valio dei carabinieri. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.